3, 2, 1, go, buongiorno ragazzi ragazzi oggi sono ritornata a questo prossimo video questo video si tratta un prossimo video c'è un video recensione allora raga dovete sapere che io sono un bel po' ma credo che lo conosceranno un bel po' di persone stavo cercando una cosa una cosa che poi ho trovato su amazon ma raga sinceramente ho preferito questa perché costava un po' troppo due di quei cosi costavano troppo e poi anche uno però per carità comunque l'avrei preso forse comunque oggi stavo facendo una passeggiata e non so in quale proprio preciso negozio ma in un negozio ho trovato questa cosa questa cosa per me è la meraviglia di tutte le meraviglia perché? perché a parte che l'ho trovato su amazon di un solo colore poi oggi l'ho trovato di tante forme e di quello l'arcobaleno e ora raga non l'ho aperta ancora ma l'aprero assieme a voi tre, siete pronti? tre, due, uno no raga no questa deve avere un'incoronazione migliore raga migliore raga raga non ci vediamo scherzo perché non sono i panni ad aprire la tre, due, uno ui raga allora ho preso un fidget toy quella è uno dei più fondi credo e ora l'apriremo e mamma mia raga ma io sto volando l'ho trovato raga io sono ancora sotto shock che l'ho trovato allora eccolo qui con 35 pallini vi raccontate quando stavo in busta così a caso e ora vi farò sentire lo cricchio che fa aspettate non so come farlo vedere che figo raga e se non riesco a farvelo vedere in questo modo guardate ecco vedete c'è tipo c'è questo chiudo poi faccio così questo qua e l'è stupendo cioè poi questo viene chiamato anche fidgettoio perché è antistress e poi è facilissimo di farli tornare in sé raga io troppo happy sentite lo scrocchio aspettate questo sarebbe meglio farlo su una una parete un qualcosa perché non riesco a farvelo vedere bene ora sentite tra poco ve li farò ritornare in sé vedete questa linea allora se mi sarò togliata adesso di sicuro ma raga allora voi dite ma è una stupidaggine no raga per me è la vita perché io la stavo cercando da troppo è bellissimo è colorato ma fate a non prenderlo e sinceramente sono stata troppo contenta di trovarlo e allora ora ve l'ho fatto vedere un po' così magari cioè se andate sul nostro Instagram andando i cicli per la marga Giulia Kawaii trattino basso official vi farò vedere lo scrocchio lì io vi farò vedere quando ve lo fare perché altrimenti raga qui non si capisce niente però infatti su una parete sarebbe meglio cioè su un tavolo un qualcosa sarebbe meglio però tranquilli che sul nostro Instagram dove vi ripeto ci chiamiamo che gira voi ve lo farò vedere bellissimo mambiciù e quindi niente raga ho voluto farvi vedere questa cosa perché forse ehm l'ho pagato 3,50 comunque e sinceramente sai no troppo bellino troppo così che fai non lo prendi ma quando mai io poi raga sono la reginetta delle stupidaggini e io sto quasi stupidaggini nel mio cassetto cioè io vi potrei fare la recensione del mio cassetto oppure del mio puff tipo c'è una specie di scatola contenitrice contenitrice vabbè e io vi farò solo quindi stupidaggini quindi raga niente appunto vi ho fatto questo video per esprimere qualcosa della mia felicità con voi come al solito e niente raga io vi ricordo di iscrivervi per i isa margigulia capovi trattino passofica su face margigulia capovi su tiktok margigulia margigulia sul secondo canale margigulia secondo canale sul canale di lalda marg lettera sul nostro canale margigulia capovi se volete le mail con le tazze cucine di tantissimi altri colori basta andare su www.margigulia capovi se non vi è piaciuto ciao